Confermata definitivamente in Cassazione l'assoluzione per l'ex presidente della regione molise Paolo Di Laura Frattura, PD, e per gli ex assessori regionali del centro-sinistra Pierpaolo Nanni e Carlo Veneziale. I tre erano stati assolti in appello nello scorso mese di ottobre, dopo che in primo grado, con il rito abbreviato, erano stati condannati a otto mesi per abuso d'ufficio. I fatti si riferivano al 2016, quando la giunta Frattura nominò i componenti del nucleo di valutazione dei dirigenti regionali. Una degli esclusi dalle nomine fece ricorso al giudice del lavoro, che di seguito passò il fascicolo in procura per avviare il procedimento penale. Frattura, Nanni e Veneziale erano difesi dall'avvocato Mariano Principe.